Oh, Ornstein! Do cazzo sta Artorias? Che siamo Natale? Ehi, ma so che è andato dentro la pizzo! Oh, ma che cazzo ordi che è andato dentro la pizzo? Ehi, ho fatto... io non so Artorias! So il cavaliere migliore dell'Ordran! C'ho pure il lupo! Ehi, poi dentro la pizzo è matto Manus! Pure a Natale! Che cazzo ne so io? Artorias de merda fa sempre come cazzo gli fa! E poi se mi muore... che cazzo vuoi? Mio signore, mangiate un po' di panettone! Ma che cazzo fa fega del panettone? Oh, Frampt! Sto parlando di cose serie! Siamo a Natale! Voglio tutti i miei cavalieri qua alla mia tavola! E non c'è St Artorias! Come sempre quello fa il cazzo che gli fa! Oh, ma che cazzo ti frega? Ma stai incogliendo il tuo cazzo di soino? Questa è la tua risposta, dottor Nostain! Allora, basta! Frampt, dammi un po' di panettone! Ecco mio signore, mangiate un po' di panettone! Ah, meglio va! Oh, ma c'ha l'Uvetta! Uvetta del merda! Oh, eppure a Natale qui non si deve incazzare! Charan, perché non mangi niente? Sono tanto triste! Vorrei che ci fosse anche Artorias! Oddio che tristezza! Goug, tu perché non mangi? Non ci vedo, non vedo il cibo! Andiamo bene! Oh, mio signore! Oh, ma che cazzo è? È arrivata sua figlia! Non vedi quella troia di mi figlia! Guinevi! Ritornata per Natale! Fatelo entrare! Subito! Io, signore, io non credo che si tratti proprio di Guinevi... ... 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